Samovar Group, un successo di squadra. Samovar nasce nel 1997 da un'intuizione di Maurizio Nardi con questi valori fondanti. Impegno, passione, professionalità, originalità e tanta, tanta qualità. Ben presto, Samovar diventa una realtà importante con le sue tre divisioni, Incentive, Incoming, Viaggi. E anche il suo staff cresce. Oggi tra personale di agenzia, Incoming staff, tour leaders e animatori siamo in 37. Dal 1997 ad oggi, nella sola divisione Incentive, abbiamo organizzato più di 300 viaggi. Fatto viaggiare più di 35.000 persone. Scelto 200 diverse destinazioni. Presentate con più di 40.000 slides. Per un totale di oltre 73 milioni di notti prenotate nel mondo. Siamo in tanti, con gusti diversi, con passioni diverse, con modi di divertirsi diversi, ma con un unico grande obiettivo. Far star bene le persone che viaggiano con noi. Per saperne di più, partecipa a una delle nostre serate di presentazione. Vieni a trovarci sotto la torre pendente. Ti ospitiamo noi. Cercaci su Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Samovar. Dimentica tutto. E viaggia con noi. E viaggia con noi.